Oggi l'importanza di avere un manager in un'azienda, in una piccola e media impresa è assoluta e direi è diventata una necessità. Non se ne può più fare a meno. Per poter crescere il nostro sistema di imprese ha bisogno di competenze, le competenze sono necessariamente in capo a manager che possono entrare nelle imprese, dare cultura e dare crescita e dare quel booster che serve per riuscire anche a guardare i mercati internazionali con capacità e quindi creare tutto quel valore che per le nostre imprese diventa fondamentale. Oggi direi che diventa imprescindibile tutto ciò e quindi l'accordo con for manager è qualcosa di esiziale per le nostre imprese. I principali ostacoli sono purtroppo in capo sovente alla mentalità dell'imprenditore. Il piccolo imprenditore fa ancora molta fatica. Fa fatica ad accettare l'ingresso di competenze esterne, fa fatica a fare un passo indietro, fa fatica ad accettare manager. Bisogna evitare che ciò accada ancora nei prossimi anni ma soprattutto bisogna aiutare il piccolo imprenditore a uscire dalla propria azienda, a contaminarsi, capire le best practice e in questo modo anche adottare la capacità di fare entrare nell'impresa competenze che possano farla crescere. Io sono a prova provata che la capacità di fare entrare competenze nuove può portare alla crescita dell'impresa. Fino a quando mi sono ostinato da piccolo imprenditore a fare tutto da me, ho solamente fatto molti errori, qualche volta grazie a Dio l'ho anche azzeccata, ma mi sono reso conto che diventava impossibile, se non difficile, poter far crescere l'impresa in una maniera sostenibile, soprattutto con una grande capacità poi di guardare nuovi mercati. Ho a quel punto compreso l'importanza della managerializzazione, ho aperto l'azienda a nuove competenze e devo dire che ne ho avuto grande soddisfazione.